No, Olmo, no! La nostra parte è finita, sai? Non facciamo più mezzo e mezzo! Fai bravo, Olmo! Sei stato lontano e tante cose sono cambiate, non le sai? Ma io so solo che abbiamo sempre diviso a metà! Ma è un anno speciale! Il padrone ha affittato le macchine, paga i braccianti! E allora? È un anno disgraziato! Beh, e viva il nostro eroe! Anche dividere a metà è già un furto! Che chi lavora siamo noi! Neanche la metà ci volete dare! Lo sai perché ho dovuto prendere tanti braccianti? Perché quasi tutti voi altri uomini siete andati a farvi ammazzare in guerra! Come tanti coglioni! Papà! Non è giusto, scusa, ma non hai il diritto di dire queste cose! Ma stai zitto! E gioca alla guerra se ne hai voglia! Lo sai quanto mi sei costato a tenerti a casa? Non lo so, dimmelo tu! Quanto ti è costato? Molto più di quel che vale! Ma io volevo andarci, sei stato tu che non mi hai lasciato partire! Come no! Però, che bella sciabola nuova che hai! Ma sì, è una bellissima sciabola! Molto bella! E taglia molto bene! Sì, taglia molto bene! Guarda papà, guarda! Complimenti, tenente!